Musica E vediamo squilare anche il maestro Milo Lombardo Autore, disegnatore, pittore del nostro paglio E ora il vestillo dell'eminentissimo cardinale Brana Castiglioni Musica 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 Ed ecco che accogliamo ancora una volta qui al castello di Monterusso Il protagonista di tutte le edizioni del nostro paglio dei castelli Il cardinale Branda Castiglioni L'ideatore, fondatore, disegnatore di questo nostro bordo Costruttore della nostra città Che è la prima città ideale al mondo E' la prima città ideale al mondo E' la prima città ideale al mondo e salutiamo anche i nobili cavalieri e le suavi madonne di Cantorium noi siamo giunti alla parte finale terminale del nostro corteo vediamo ora sfilare l'altro logo di Fagnano Lona con i nobili e le suavi madonne anche loro amici ormai da anni del Palio dei Castelli da anni ormai partecipano con grande entusiasmo alle nostre emozioni del Palio e noi li siamo grati per la loro partecipazione ci fa sempre molto piacere bentornati a Castiglione Lona e come da tradizione chiude il corteo storico il gruppo dei musici e degli sbandieratori di Alba, Borgo e San Lorenzo ma loro naturalmente si fanno sempre un po' attendere e quindi con pazienza ora li aspetteremo anche noi sì perché trovano sempre modo di anniettare i nostri spettatori e il nostro pubblico e anche qui ci regaleranno sicuramente qualche emozione un piccolo spettacolo non mancherà sì sicuramente e anche loro sono avvice ormai da tanti anni oltre 20 edizioni hanno fatto con il nostro Palio davvero da tanti tantissimi anni e abbiamo sentito piacere chiederti con noi apparently che attrattano i nostri spettatori anche noi anche noi e anche noi quindi Grazie a tutti. Grazie a tutti.